Bello, ambizioso e anche utile annuario degli artisti italiani, quelli che hanno deciso di farsi schedare e catalogare. Fra tanti talenti riconosciuti del Novecento, vi sono molti giovani pieni di speranza. Il catalogo è bello, gli autori sono Luca Beatrice, Angelo Crespi, Paolo Levi e Dio. Ma questo ci consente di guardare uno spaccato di una realtà artistica comunque esistente e in che misura uno possa da anartista farsi o dirsi artista. Questa è la speranza di molti anartisti. E allora occorrerà ricorrere a Nikita Khrushchev, che i più vecchi ricordano, uno dei grandi statisti dell'Unione Sovietica, un comunista buono, amico di Papa Giovanni, che cerca di portare un vento di democrazia, se era possibile, dell'Unione Sovietica, che ha un'intuizione come nessun critico d'arte, nessuno studioso di estetica ha avuto. L'arte moderna si chiama così perché non ha nessuna probabilità di diventare antica. L'arte moderna si chiama così perché non ha nessuna probabilità di diventare antica. Questo è un volume di arte contemporanea, moderna. Quanti supereranno le barriere della storia per diventare artisti per sempre? Non lo sappiamo, ma intanto guardiamolo.